Lo smart working è proprio questo, la possibilità di consentire una flessibilità che è anche garanzia di migliore conciliazione della propria vita con il lavoro, lavorando ovunque e con i tempi che ci si dà. Come Ministero dell'Economia siamo molto avanti nella sperimentazione, sono già quasi due anni che sperimentiamo lo smart working e da luglio questa sperimentazione la estenderemo a più di 800 dipendenti. Quindi naturalmente le possibilità sono molto ampie e sicuramente i giovani potranno goderne. Ma la flessibilità è anche molto richiesta, l'abbiamo misurato, dalle persone oltre i 50 anni e anche oltre i 60 anni. Naturalmente hanno esigenze personali anche di cura dei genitori molto anziani superiori a quella dei giovani e quindi anche per loro lo smart working è un'opportunità e nella nostra amministrazione infatti la quota delle persone che è in smart working sopra i 50 anni è quella prevalente.